Ciao a tutti, come scoprire se hai le corna? Molte persone, diciamo, hanno questa esigenza perché non si fidano completamente del partner, pensano che possono tradire, ma non, insomma, hanno dei dubbi. Ci sono dei metodi analogici, emotivi, per capire se veramente il partner ti tradisce. Intanto devi tenere presente una cosa, che mentre la tua parte logica magari non sa, la tua parte emotiva sa, e quindi sfruttare le conoscenze della parte emotiva che comunica costantemente, diciamo, con il suo linguaggio però, per cui se noi non conosciamo questo linguaggio e non riusciremo mai a capire se effettivamente c'è sotto qualcosa, diciamo, c'è sotto qualche tradimento. E suppone, ad esempio, che il signor Rossi se ne torna a casa con la macchina dopo una giornata di lavoro, mentre guida, è lì che pensa, oh, che bello tornare a casa dalla propria moglie così fedele, fedele. E mentre parla, dice fedele, fedele, gli viene da raschiare. È come se la sua parte emotiva, la sua parte emotiva, l'icesse a cretino, guarda che tua moglie non è fedele. Ovvio che se lui non conosce questo linguaggio, non ci pensa nemmeno. Se invece lo conosce e nota che l'arraschiamento avviene su questo pensiero, potrebbe pensare che sua moglie, diciamo così, che la sua parte emotiva, che la propria parte emotiva, ha capito qualcosa che la parte logica non ha ancora capito. E allora potrebbe andarsene a casa e, diciamo, vedere la moglie e dire, oh, che bello, mi piace proprio, sei proprio una moglie fedele. E se su fedele è anche la moglie raschia, vuol dire che, insomma, pur lei sta comunicando analogicamente che tanto fedele non è. E allora il nostro amico signor Rossi potrebbe così tranquillamente iniziare a riflettere. E allora la parte emotiva, qualche indizio te lo manda. E gli viene in mente, mentre lì che pensa, che pensa, che pensa, una notte, gli viene in mente un nome. Un certo Mario. Chissà chi sarà sto Mario. Un vecchio amico di famiglia. E allora va dalla moglie e dice alla moglie, ma quel nostro amico Mario non si è più fatto vedere. E la moglie dice, Mario, no, non l'ho più visto. E mentre lo dice si tocca le labbra, dicendo che lei è coinvolta con Mario. E quindi sarà proprio Mario il terzo incomodo all'interno della coppia. Molto probabile. E allora, una sera che la moglie esce, il nostro amico al ritorno potrebbe dire, oh, cara mogliettina, dove sei andata di bello? E la moglie dirà, ma sono andata a cena con delle amiche. E mentre lo dice, butta gli occhi alla sua destra. Il che significa che si sta inventando una soluzione. Si sta inventando qualcosa. Perché buttare gli occhi a destra significa che si accede non alle memorie, ma si accede alla parte costruita. Quindi sta costruendosi una risposta. Allora il nostro amico Mario potrebbe dire, ma dove sei andata di bello? Eh, sono andata in quel ristorante in Corso Garibaldi. Sempre buttando gli occhi da questa parte. Vuol dire che in quel ristorante lì non ce n'è andata. E allora Mario potrebbe usare, e allora il nostro amico potrebbe usare, per sgamare la moglie Mario, la prova del 9. Potrebbe dire, ah, ma cavolo, ma hanno appena detto su Re 3 che c'è stata una sparatorre in quel ristorante. Ma hai sentito niente? E allora la moglie lì, colta di sorpresa, inizierà a muovere gli occhi dappertutto, perché non riuscirà a capire esattamente nulla. e questa sarà la conferma che lei in quel ristorante lì non ci è andata. Mai. E il nostro amico, insomma, potrebbe avere dei grossi indizi che la moglie comunque probabilmente gli sta facendo le corne. Ecco, questo è un metodo, diciamo. Adesso ho usato, come dire, una situazione familiare. Però noi possiamo utilizzare questo metodo per capire, quindi i movimenti oculari, i movimenti del corpo, raschiamenti, grattamenti, posture, che ci dicono esattamente, diciamo, quali sono gli stati emotivi dell'altra persona, anche collegati proprio al tradimento. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo due cose che venerdì 24 febbraio terrò a Torino un corso su come coinvolgere con le emozioni. Torino, educatore della provvedenza, in corso 3013. Se sei interessato o interessato, il riferimento è 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che, se ti iscrivi al canale, potrai partecipare alle stazioni gratuita dei corsi con me da tenere, che potrai seguire o dal vivo o via video. Quindi iscriviti al canale, mi raccomando, e ti aspetto venerdì 24 febbraio a Torino. Ciao!